Carissimi fratelli e sorelle, oggi siamo qui per condividere con voi un messaggio divino di estrema importanza e allo stesso tempo spaventoso, ricevuto direttamente da Dio Padre e trasmesso al Padre Michel attraverso l'Arcangelo San Michele. Questo straordinario messaggio, che stiamo per esaminare, è di grande rilevanza perché affronta un tema che suscita preoccupazione in molti di noi, la profezia di un imminente e potente terremoto che colpirà la nostra nazione. In un periodo in cui ci troviamo ad affrontare l'incertezza e la paura in tempi tumultuosi, è fondamentale riaffermare la nostra fede in Cristo Gesù. Oggi ci riuniamo come comunità di fede per riflettere su questo importante messaggio e cercare ispirazione e conforto nelle parole del nostro Signore. Il video che seguirà offrirà una panoramica chiara su questo messaggio terribile. Inoltre, alla fine del video, troverete qualcosa di ancora più importante che abbiamo preparato per voi. Quindi, vi invitiamo a rimanere con noi, a concentrarvi e ad essere buoni cristiani, senza ignorare questo messaggio. Abbiamo un'esplorazione profonda, guidati da un messaggio consegnato da San Michele Arcangelo. Questo messaggio ci esorta a prepararci sia fisicamente che spiritualmente per l'inevitabilità di eventi sismi. Benvenuti a questa presentazione speciale, dove ci addentriamo nelle profondità di questa rivelazione divina, offrendo intuizioni e guida per affrontare questi tempi incerti. Gli eventi catastrofici, come uragani, incendi, inondazioni e terremoti, ci ricordano la fragilità dell'esistenza umana. In questi momenti di incertezza, la fede diventa una fonte incrollabile di consolazione e forza per innumerevoli individui. È nel regno della fede che incontriamo il messaggio che stiamo per esplorare, impartito a padre Michel Rodrigo Divino con San Michele Arcangelo. Il messaggio di San Michele risuona profondamente con coloro che mantengono una fede ferma nell'intercessione degli angeli e nell'importanza della spiritualità nel navigare le acque tumultuose. della vita. Iniziamo un'esplorazione degli insegnamenti centrali di questo messaggio divino. La fede di fronte all'incertezza è un tema chiave, e San Michele Arcangelo sottolinea l'importanza di mantenere la fede in Gesù Cristo quando ci si trova di fronte a tempi ambigui e spaventosi. Mentre lottiamo con la capricciosità del mondo intorno a noi, mantenere saldamente la nostra fede diventa una fonte inesauribile di coraggio e determinazione. Le preghiere, rafforzate dalla fede, devono essere intrise di carità e umiltà. Queste preghiere, combinate con una speranza incrollabile nell'amore divino e nella protezione della Vergine Maria, offrono un aiuto indispensabile durante le prove. San Michele profetizza terremoti significativi in varie regioni, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Messico Centrale, Sud America, Brasile, Cile, Uruguay e Argentina. Queste profezie servono come severi promemoria del formidabile potere della Terra e della vulnerabilità dell'umanità alle sue forze naturali. Per salvaguardare la pace interiore tra il tumulto imminente, il messaggio consiglia di preservare la nostra pace interiore, un attributo inestimabile in tempi di crisi. La nostra fede incrollabile in Cristo ci servirà come luce guida, impedendo alla disperazione di attecchire. La preparazione per eventi significativi è un altro tema chiave del messaggio di San Michele. Ci incoraggia a prepararci sia spiritualmente che praticamente per affrontare le sfide che ci attendono. Con una fede incrollabile e un impegno saldo nell'aiutare l'un l'altro, possiamo navigare i mari tempestosi della vita con grazia e resilienza. In conclusione, il messaggio di San Michele Arcangelo ci invita all'azione, esortandoti a ci a non rimanere passivi di fronte all'incertezza. Fortificare la nostra fede, abbracciare la preghiera consapevole, riconoscere la realtà dei disastri naturali e prendere passi proattivi per prepararci sono tutte indicazioni cruciali. Rimaniamo uniti, estendiamo una mano di compassione e sostegno a chi ne ha bisogno, praticando atti di carità e gentilezza. La fede, la preparazione e l'azione responsabile sono le chiavi per affrontare le sfide che ci attendono. Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo alla fine di questa speciale presentazione con un messaggio che ci ha profondamente toccati e che speriamo abbia risuonato nei vostri cuori. Abbiamo esplorato insieme le profonde profezie e gli insegnamenti divini trasmessi attraverso il messaggio di San Michele Arcangelo, un richiamo alla preparazione spirituale e pratica di fronte alle incertezze e alle sfide imminenti. La fede è emersa come la luce guida attraverso i tempi tumultuosi, una fonte di consolazione e forza che, quando radicata saldamente in Cristo Gesù, ci offre coraggio e determinazione inesorabili. Abbiamo esaminato la potenza trasformativa della preghiera, intrisa di carità e umiltà, unita a una speranza incrollabile nell'amore divino e nella protezione della Vergine Maria. Le profezie di terremoti significativi in diverse regioni del mondo ci hanno ricordato la fragilità dell'esistenza umana di fronte alle forze naturali. La preparazione, sia fisica che spirituale, è stata sottolineata come essenziale per affrontare le sfide future. La conservazione della pace interiore è stata consigliata come un attributo inestimabile in tempi di crisi, rafforzato dalla fede incrollabile in Cristo. Il messaggio di San Michele ci ha esortato all'azione, invitandoci a non restare passivi di fronte all'incertezza. Fortificare la nostra fede, abbracciare la preghiera consapevole, riconoscere la realtà dei disastri naturali e prendere passi proattivi sono stati indicati come modi cruciali per affrontare le sfide imminenti. Rimaniamo uniti come comunità di fede, estendendo una mano di compassione e sostegno a chi ne ha bisogno. Gli atti di carità e gentilezza possono portare conforto e speranza a coloro che sono colpiti dalle tragedie, promuovendo l'unità e la forza nelle nostre comunità. Vi incoraggiamo a condividere il messaggio di oggi con coloro che vi circondano, affinché possiamo affrontare insieme le sfide che ci aspettano. La forza della comunità può essere un baluardo contro le tempeste della vita, e la fede condivisa può illuminare persino i giorni più bui. Non dimenticate di esplorare ulteriormente la rivelazione di Papa Paolo Giovanni II cliccando sul video sullo schermo. Le sue ultime parole potrebbero contenere insegnamenti preziosi che ci guidano nella nostra ricerca di significato e preparazione. Grazie di cuore per essere stati con noi in questo viaggio. Che la fede, la speranza e l'amore siano sempre presenti nelle vostre vite. Ci auguriamo di rivedervi presto in altre occasioni per condividere e approfondire la nostra comprensione di ciò che ci circonda. Concludiamo qui, ma sappiate che siamo tutti parte di una comunità più grande che si sostiene reciprocamente. Che la pace e la benedizione di Dio siano con voi e con tutti coloro che amate. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.